Allora questo è un piccolo video esplicativo ma tutto quello che vi descriverò in questo video è tutto preso dalle seguenti fonti quindi le fonti sono quelle del ministero dell'ambiente con l'allegato l'elenco ufficiale di tutte le specie vietate quindi potete andarla a vedere, ve li metto in descrizione così potete cliccare sopra e vedere tutta la lista delle specie esotiche invasive attuali e poi vi allego anche il sito europeo quindi sono tutti i link che potete trovare in didascalia del video Allora in totale dovete sapere che ci sono stati 3 aggiornamenti con 3 liste diverse e aggiornamenti con l'aggiunta di ogni specie anno per anno quindi nel 2016, 2017 e 2019 quindi ogni anno più o meno viene aggiornata la lista con nuove specie attualmente ci sono 66 specie in questo elenco che sono vietate che cosa è vietato esattamente? è vietata l'introduzione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, acquisto, vendita, scambio, tutto insomma anche la detenzione in ambiente confinato per esempio anche le piante coltivate in acquario in realtà non si potrebbero coltivare questo è quello che viene riportato sul sito del ministero dell'ambiente allora adesso possiamo vedere questa lista completa che include sia piante che animali allora tra le piante, iniziamo con le piante vediamo come è incredibile come la cabomba caroliniana che praticamente è stata venduta fino a pochi anni fa in tutti i negozi di acquari fisici attualmente è illegale, quindi vietata la riproduzione anche in acquario lo scambio ovviamente, la vendita e la detenzione questa praticamente non si trova più nemmeno nei negozi fisici, incredibile no? altre piante molto frequenti tra gli acquariofili era il miriophilum guardate, qualche anno fa veniva tranquillamente coltivata ora è una pianta assolutamente infestante tra le ultime aggiunte, in particolare nell'ultima lista del 2019 c'è anche la salvinia molesta guardate, questa però, attenzione, non è la salvinia natans che è differente perché in realtà sarebbe l'erba pesce e basta la salvinia molesta è l'erba pesce gigante, quindi totalmente differente allora in questa lista non c'è la pistia stratioides però se andiamo a vedere sul sito del ministero dell'ambiente è possibile vedere anche tra le candidate nella terza lista e quando uscirà la quarta lista, verosimilmente, mostrano sempre un'anteprima praticamente delle specie che probabilmente sono in esame, sotto esame tra questi c'era anche la pistia l'anno scorso ma attualmente nell'elenco non compare quindi non è ancora considerata una pianta come specie esotica e invasiva quindi non è ancora illegale ovviamente se voi avete qualche informazione riguardante la pistia sarei molto contento di ricevere i commenti sotto al video quindi però al momento praticamente la pistia, ad esempio, come pianta infestante non c'è però ci sono tutte queste attualmente quindi sono considerate illegali per quanto riguarda gli animali qua non troverete le specie protette quindi non troverete tigri o uccelli rari trovate soltanto specie assolutamente invasive e comuni per esempio troviate il cane procione o il procione, lo vedete? raccoon oppure la nutria, per esempio, c'è in questa lista insomma, sono tutte specie che non possono essere tenute in casa o se non denunciate guardate qui tra chemis scripta sia con le orecchie rosse che con le orecchie gialle cioè tutta la tra chemis scripta praticamente questa veniva venduta nei negozi di acquari fino a pochi anni fa, ora attualmente è illegale ovviamente il possesso doveva essere denunciato già tempo prima appena uscita la legge quindi chi possiede una tra chemis scripta deve detenerla con ufficiale cartaceo insomma con denuncia cartacea del possesso quindi come vedete sono tutte specie che potevano essere vendute sia questa della tra chemis che delle piante potevano essere tranquillamente vendute fino a pochi anni fa allora questa è la lista attuale però la fonte ufficiale vi ripeto la potete trovare a questi link in particolare nell'elenco ufficiale delle specie insotiche invasive in questo sito che vi metto tranquillamente in descrizione quindi potete andare subito a vederlo se cliccate giù grazie